Prosegue al padiglione d'arte contemporanea di Ferrara l'esposizione di Sergio Zanni intitolata Volumi Narranti, con sculture e pitture estrapolate dalla sua lunga carriera. Inaugurata a metà dicembre, l'artista ci ha spiegato che cosa vuole comunicare con questa mostra. Vuole comunicare che la mia vita è stata segnata dal fare, dal disegnare fin da quando ero piccolo quando ero piccolo, che non c'era televisione, non c'era un altro mezzo per divertirsi era quello di trovare un foglio, una penna, una matita e disegnare. E questo ho continuato a farlo, era un gioco allora e in parte lo è anche adesso. Un'attività, quella di Zanni, condizionata da esperienze e viaggi che hanno caratterizzato la sua vita. Sì, la mia vita è stata segnata da questa attività, però ci sono anche molti tempi... Io non ho mai cercato, diciamo, la gloria nel lavoro. Per me non era un modo per aver successo, era un modo per passarmi il tempo. perché diversamente avevo la noia facile e quindi creando queste immagini era un po' come viaggiare stando fermi. Ogni opera cela significati che rappresentano, ha detto dall'autore, una sorta di autoritratto. Io credo che comunque alla base ci siano tutti autoritratti questi qui, che rappresentano anche quella che è la mia esperienza individuale. Cioè è un ritratto inconscio, in sostanza. Sono stati d'animo che rappresentano, non volutamente, però ci sono io in queste cose. E come bisogno di trovare un mio equilibrio, questa fuga dalla noia del non fare, e in fondo è un modo per trovare la gioia di creare. Volumi narranti presenta prevalentemente opere scultore, ma non è questa l'origine di Sergio Zanni. Io nasco come pittore, anzi nasco come disegnatore e ho iniziato come pittore, però mi accorgevo che più che altro era il disegno, ero abbastanza indifferente al colore. Allora così ho capito che era la forma che mi interessava e così sono passato alla scultura.